Siete pronti? Siete canti? Anzio! Deloris Valcantier! Riportatela qui, le dico due paroline. Aiuto! Sei in pericolo, Deloris. Devono nascondere una vagabonda. Come fate a nascondere me? Benvenuta qui tra noi a Regina degli Angeli. Non metterò mai questa roba! Sei quasi in pericolo. Potresti cantare nel nostro coro. Grazie! Cinque, sei, sette, otto! E questo cos'è? È musica tol! È un sacrilegio! La gente per strada è attratta dalla musica. Entra in chiesa, ci riempiono di offerte. È un successone! Dovete liberare le vostre emozioni e cantarle al Signore! Se non farò servire, se non viaggerò, almeno una chance ancora ce l'ho. Scoprire che c'è un po' di più. Io non sono fatta per questa vita. Voglio venire con te. Vivrò quella vita che non ho avuto. Canteremo per il Papa! Deloris, devi andarvi a subito. Come puoi lasciarci adesso? Mi dispiace, sorelle, ma non canterete per il Papa senza di me! Mi proteggerai? E di un midino? Su Armare a Claretta è una sorella come questo convento non ha mai conosciuto. Forse un giorno vedrai in questo la grandezza dell'uomo. Fammi volare, fammi rinascere! La magia! La magia! La magia! La magia! La magia!